Ciao Pino, tremetto che non sono un tuo fan e ti stimo per il semplice fatto che non hai paura di dire come funzionano realmente le cose nel paese del bunga bunga. Ci tenevo a sapere cosa ne pensi del chitarrista Buckethead. Un saluto speciale anche a Jack, grazie se è un grande, da Angelo. Tu chitarrista chi? Capito, ma tu mi devi dire una cosa Gianni, che c'entrava dopo Slash Buckethead, che era un chitarrista sperimentale, e soprattutto che c'entra dopo che Buckethead s'era andato, Ron Toll, che è un altro chitarrista sperimentale. Buckethead? E chi cazzo è? Adon Satch, non lo conosco. Non metti in dubbio che Buckethead o Ron Toll non siano due animali da palco anche, ma ricercano determinate sonorità, determinati abbellimenti, arricchimenti, eccetera, che non fanno parte di quel bagaglio genetico, capisci? Non c'entrano proprio niente. Vengono da altre storie. Sono fuori. Pino, Buckethead è il chitarrista statunitense, quello col coso in testa là, col cesto in testa. Col cesto, col cesto in testa. Sì, c'ha un cappello che sembra un cesto. E vende la frutta? Non lo conosco. Beh, è molto famoso, eh? Ah, è famoso. E levati dal coglio! E levati dal coglio!